Io ho fatto soltanto il mio dovere, ho creduto in certi valori che poi ho condiviso con i colleghi che sono stati compagni di quella avventura, mi piace chiamarla così, di quella avventura, di quella primavera giudiziaria che è iniziata nei primi sei anni 80. Riavvolge il nastro dei ricordi Leonardo Guarnotta, magistrato nato a Palermo nel 1940 e membro di quel pool antimafia coordinato dal giudice Antonio Caponnetto che con Giovanni Falcone, Antonio Borsellino e Giuseppe Di Lello ha istruito il maxiprocesso di Palermo contro Cosa Nostra. Lo fa davanti agli studenti del liceo scientifico d'Ascanio di Montesilvano, dialogando con il professor Graziano Fabrizi e Filomena Mammarella, dirigente scolastica del D'Ascanio, raccontando ai giovani quegli anni difficili e presentando il libro C'era una volta il pool antimafia nell'ambito della 25esima edizione del premio Borsellino che si concluderà domani a Pescara con la cerimonia di premiazione dal Teatro Flaiano che a partire dalle ore 10 sarà trasmessa in diretta tv su Reteotto e in streaming su www.reteotto.it. Io non sono un eroe, non volevo esserlo ovviamente, ho soltanto fatto il mio dovere, incontro persone che mi dicono ma lei lo farebbe tutto quello che ha fatto in questi anni? Io dico sì, senza alcun dubbio lo farei, l'ho fatto per spirito di servizio perché ho creduto in certi valori, quei valori non negoziabili, ricordatevolo, non negoziabili, non posso essere oggetto di commercio che sono la giustizia, la legalità, la legge, la democrazia, la condivisione, la solidarietà, tutti questi valori per i quali i colleghi di cui vedete l'Effigie e prima di loro Rocco Chinnici hanno improntato la loro vita quotidiana e per i quali hanno servivato il bene sul tempo della propria vita. La volontà di dare una mano ai colleghi per poter iniziare con loro quel lavoro che avrebbe forse consentito un giorno, così allora speravamo, di restituire la Sicilia ai siciliani onesti, di liberare la nostra terra così bella e così sfortunata dal gioco opprimente della mafia, di Cosa Nostra, come poi sappiamo si chiamava la mafia. Una sera la cosa le risolse mia moglie, dice guarda, è inutile tirarla in lungo perché capisco dalla commozione, vedi, e ce l'ho pure in questo momento, quindi dalla commozione che sento dalla tua voce e presunta dalla luce che vedo nei tuoi occhi quando tu parli della possibilità di entrare a far parte di questo gruppo, io so che tu puoi farlo e allora che ci aspetti? Fallo, e lo devi fare come uomo, come siciliano e come cittadino. E allora l'indomani telefonai a Antonio Caponnetto e gli ho detto Antonio sono dei vostri, va bene sono con voi e allora è incominciata questa mia nuova vita. Grazie. Grazie.